Nonostante i crescenti e sempre più prestigiosi impegni a livello nazionale in ambito calcistico, non è voluto mancare in occasione della cerimonia di premiazione delle eccellenze dello sport irpino. Cosimo Sibilia, vicepresidente vicario della FIGC, ha preso parte alla celebrazione per l'assegnazione delle stelle al merito sportivo del CONI, tenutasi nella serata di ieri nell'ex carcere borbonico ad Avellino. A margine dell'evento, spazio a una serie di riflessioni su vari temi, tra questi le universiadi, per cui è ormai conto alla rovescia. Io ricordo quando ero presidente del CONI, abbiamo nel 2016 avuto la possibilità in conferenza stampa di dire che era una sfida importante questa delle universiadi. Mette alla prova un intero sistema sportivo regionale, quindi è importante farsi trovare pronti, perché poi le universiadi non sono solo di Napoli o della provincia di Napoli, ma riguardano tutta la regione Campania. Un aspetto importante è soprattutto quello che con le universiadi ci saranno grandi investimenti dal punto di vista delle strutture sportive e quant'altro. In questa regione noi ne abbiamo tanto bisogno, quindi credo che sia un fatto positivo e anche qui mi pare che si sta raggiungendo l'obiettivo di farsi trovare pronti quando ci sarà l'inizio di questa grande competizione internazionale. Un messaggio chiaro e netto che suona anche come un monito.